Musica Musica Dalla scorsa puntata New York torniamo in Italia con il sorriso, o meglio con un sorriso per l'Emilia. La raccolta fondi a favore dei terremotati dell'Emilia, cominciata alcuni mesi fa con il fine di dare una mano a coloro che ancora oggi vivono in una situazione di disagio, come ci aveva spiegato in occasione del ritiro di Pinsolo il coordinatore Patrizio Alfieri. Un'iniziativa che quest'anno noi ci è venuta in mente, c'è purtroppo per quello che è successo in Emilia, quindi la nostra intenzione è quella di vendere 14.000 biglietti, questo è il nostro obiettivo, che ogni interclub della mia provincia si impinerà per vendere e poi il 12 dicembre faremo una festa, ancora il posto, il luogo è ancora da individuare, che comunque alla fine devolveremo a un'associazione che ci indicherà il nostro collega coordinatore dell'Emilia. Come dimostrano queste foto, il progetto è proseguito e nella serata di martedì 11 dicembre ha stato consegnato un assegno di 9.000 euro al fine di ricostruire i spogliatoi del campo di calcio della junior finale di Finale Emilia, alla presenza del presidente del centro coordinamento interclub Bedi Moratti, del responsabile Sergio Spairani, di Mario Lino Corso, Beppe Baresi e del portiere nerazzurro fresco di rientro in primavera, Raffaele Di Gennaro. Una serata di ospiti, sorrisi e tanta beneficenza. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.